Ciao ragazzi, qui Ema e Vegge dei Not Forgotten Gamer Eccoci Torniamo ai Retro Gamer Oggi si gioca Commando Questo è un bellissimo gioco, tanto che cambierete il Commodore 64 Uscito nell'85 dalla Capcom Resident Evil Successivo da Capcom Che dire, è un gioco di guerra, spara tutto in terza persona A me piaceva tantissimo quando ero in fono Ma adesso vedrete perché è veramente bello Seconda guerra mondiale Vedete la grafica E vedete il sonoro Non mica male C'ha le sue variazioni Sì, effettivamente è lunghissimo Potremmo stare qui 5 minuti e ancora continua e cambia Comunque, meglio giocare Comincia Vegge Che è un esperto Eccoci Ok, qui immagino che già avrete capito di che cosa si parla Vedo un omino blu che sei te e tanti omini grigi Ecco, ho già perso una vita Non le bombe sotto, bombe devi fare, no? Sì 5 bombe Questo gioco è difficilissimo Potrebbe non sembrare Qualche giorno fa ho visto su YouTube un video di qualcuno che lo finiva in 3 minuti senza perdere una vita In 3 minuti? Che basta, è filo? Ho perso una vita a cercare di finire il gioco E credo di non esserci mai riuscito senza cercare E credo di non esserci mai riuscito senza cercare Questo tizio è blu come te Lo devo salvare Ah, è un... Non ci sono riuscito Pazienza Allora Che fanno? Che cosa? Niente Allora Quelle cose che ho appena preso sono bombe Sono motosciorista e lancio bombe con un pazzo Però è... Eh, ma aiutami tu a lanciare le bombe Credo con la barra spazio Barra spazio? Sì Dimmi te No 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 Allora... Non lo so Qualche tasto? 11 bombe abbiamo Però non si fa come lanciare Che ne so? B? Mamma mia Guarda quanti sono In B? No, non ho idea di quale tasto sono No, non fa niente Non fa niente Ah! Sono proprio tanti No! Sono arrivato quasi alla fine del livello È una specie di Rambo questo No, ragazzi, è troppo difficile Due vite Si sparano da tutte le direzioni Forse dovrei ucciderne una per volta Nascondo dietro di massi Sì, poi escono e sparano E i colpi Ah! Guarda, siamo qui dove i muriti a sparare Non c'erano proprio speranti Ci sono uomini e colpi che arrivano da tutte le direzioni Forse mi sembra abbastanza fluido, veloce come gioco Sì, 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 sì È molto, molto, molto veloce Ecco, questa è la fine del livello Ah, un canciullone Uno meno verde che è un boss, cos'è? No, è qualcuno che dà più punti degli altri No! Cazzo Quali suono? Penso che era una vita Ma questi muriti che danno? Bunti? Sono solo punti? Ah, no, 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 no Quei quadrati sono le bombe Ah, queste sono le bombe Che prendo e posso usare Che prendo e posso usare? 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 Cazzo Le bombe non sono come si mettono Cazzo, rapidissimo Tre minuti di partita Con cui si può anche finire volendo C'è chi c'è riuscita ma non ci riusciremo mai Quanti livelli ha? Eh, credo tre Credo tre Tre livelli, guarda io ci provo Io adesso non sono un'esperienza esperto Quindi F1? No, Fire Fire Quindi si spara, cammina, le bombe non si sa come cazzo Sì, non c'è niente da dire sui controlli Sono... Basilari No, se mi toccano me lo massacrano però, non immagino Secondo me con la barra spazio si lancia le bombe Eccaro che non so più come lanciare le bombe perché ce ne avrebbero tante Ecco, com'è? Sì, sì, barra spazio Devi tenere premuto? Sì, è che prima... Ah, ok, ok Allora, l'aiuto per te, va Eh? Veggie mi lancia le bombe, dai, dai Sì, sì, sì Io penso alle bombe Io lo sparo vedo quello che stiamo fa Le bombe ovviamente Se lo libero, che mi succede? Dà la vita? Dà punti Dà punti Credo solo punti Ma comunque credo che come molti di questi giochi La vita si arriva dai punti Nel senso... Questo motocinista mi sta a non cazzo Sì, le bombe Bomme prese Ok Qua ne lancio una Dove sto, dove sto Non cazzo, no, 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 no Giochiamo sempre sul Vice, lo ripetiamo Se non aveste visto i vecchi video Vedo Questa è la versione per Comodo 64 Aiuto cazzo Io giocavo invece Al seguito di questo Bione che commando Ah, Bione che commando Per amica Io giocavo, noi io giocavo sull'amica Eeeh Attenso Cazzo Non c'entra niente questo È sempre un gioco di guerra Ma quello è un scorrimento Orizzontale Eeeh Sì, spara ovviamente Però c'è poi una corda da praticarsi E' una cosa più figa da quella Questo che spara BOMB Vaffanculo Ti ha dato un muro Sei tu che l'hai sparata Cioè io Cioè ben Ecco, sono arrivato qua in fondo Ok, quindi Vetti di di lato Che cazzo che lo stronzo Poi seguire Eeeh E' un mostro E' preso di mira Cerca di metterti di lato E di sparare In orizzontale Però attento che ogni tanto Partono dei colpi Guarda, guarda, guarda Mi esegono Fa in culo No Due mila Ma ci prendono vite Se guadagno ogni tanto Sì, penso con i punti Forse quando arrivi a ventimile Ma che non è facile Questo punto Non è più niente facile No, no, no E' che ne escono tanti E sparano un sacco di bombe Oltre i colpi normali Niente Non c'è uno fai E' tosto E' tosto come gioco Ragazzi dovete giocarci Perché è molto adrenalinico Molto, molto rapido Non è completo E' ma E' LFG Ah, LFG Molto, molto tosto Sì Però le comande rispondono bene Sì, sì, sì E' molto veloce E' carino Bionic Commando E' Bionic Commando Questo c'è il Bionic Commando Questo è il Commando Beh Cercate su YouTube Le versioni della musica principale Di Commando Che sono state rifatte Suonate con la chitarra La versione metal Le versioni diverse Infatti si sente che c'è una colonna sonora Sì, questa è la musica triste Questa è la musica classica Questa è la musica classica Ah, vabbè, dai Hai ricercato le musiche rispetto a Wonder Boy Che è sempre il suono di tonnello E' stata benissimo E' stata benissimo Poi a fine di sopra Anche lunga Cambia molto Sì, sì Quindi della Capcom Commando 85 Nel gioco non si sentirà mai Per intero la musica Sono un livello che dura un minuto Un minuto e mezzo La musica dura molto di più E quindi in Just Ascene non ho mai visto Sì, sì Questo è il secondo livello Questo? Questo pure esistente Questo è anche il secondo livello Mi ricordo E c'è pure un Edo Che guida meglio No, no No, però è bello Perché dopo ci sono Molti altri nuovi elementi Nuovi nemici Cose Con cui interagire E' molto vario Molto, molto vario Comando Vabbè, allora Da Da commando è tutto Penso Nel nostro forgotten game Se l'abbiamo provato Abbiamo Rimangato il passato Sì, e penso che E noi ci giocheremo ancora Sì, sì E' bella la giocaccia Sì, sì Sicuramente Allora, alla prossima ragazzi Al prossimo video Della collana Retro Gamer O più O come si chiamerà Ok ragazzi A presto O come si chiamerà O come si chiamerà